Tre giorni di festa tra mare e spiaggia a Scario, lo sport come momento di inclusione e di indirizzo per stili di vita più corretti. Lo sport per tutti nella grande festa del mare da Scario, Rino Genovese. La spiaggia delle Cinque Vele, la meraviglia del Golfo di Policastro animati dalle scolaresche per la tre giorni della grande festa del mare, la manifestazione dell'Unione Italiana Sport per Tutti, lo sport che aggrega ed aiuta a crescere. Scario, la spiaggia di San Giovanni a Piro, la principessa del Golfo di Policastro, si trasforma per tre giorni in un palazzetto dello sport a cielo aperto. Sport di mare e di spiaggia, divertimento assicurato ma con un obiettivo specifico. Dopo la Movi Week, settimana del Movimento Europeo, che ha l'obiettivo di portare 100 milioni di cittadini europei al Movimento Fisico per la Salute, anche a Scario stiamo puntando con i sani stili di vita attraverso lo sport per tutti. Lo sport come straordinario momento di inclusione, dalle attività subacquee per diversamente abili alla vela. Come WISP abbiamo introdotto un concetto di vela inclusiva, un modo per creare l'equipaggio dove tutti devono avere il loro ruolo e dove tutti sono necessari. Quindi è uno strumento adatto a qualunque progetto sociale. La grande sfida lanciata da anni dalla WISP, il valore anche in termini turistici dello sport differenziato è legato alla straordinaria potenzialità attrattiva del nostro territorio. Una grande sinergia tra le istituzioni, le scuole, le associazioni e soprattutto la Lega Navale di Scario per dare uno sviluppo a questo bellissimo territorio incontaminato e puntando su questo straordinario ambiente che possiamo disegnare una via di sviluppo per tutto il nostro territorio.